salve amici del canale youtube ragazzi mi è stato inviato un video sulla pagina facebook sono tre spezzoni di video filmati da una ragazza zona lampedusa zona cala pisana la ragazza dice che non aveva mai visto una cosa del genere stupita inizia a filmare il tutto con il suo telefonino le immagini non sono molto diciamo nitide però perché di sera però è un veramente un evento molto molto strano in primis io gli ho risposto che può darsi che si tratti di dei sub dei sub sotto sotto acqua che stanno facendo quello che fanno i sub diciamo ma la ragazza e la sua amica dicono che non hanno visto imbarcazioni nei torni quindi non fuoriuscivano nemmeno bolle perché poi come ben sapete i sub quando sono sotto acqua fuoriescono delle bolle di ossigeno da sott'acqua va bene ragazzi vi faccio vedere vi mostro il video e poi lo mettiamo parti col video vai non lo so non lo so che cos'è cazzo che cazzo è guarda 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 troppo forte ma che cazzo è ok stai camminando stai camminando stai camminando oh cazzo c'è una testa là io non lo so se è una testa ma c'è qualcosa ma è morta sogno guarda 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 no Tanya eccoci qua ragazzi questi sono i tre filmati tutti e tre messi insieme se erano sub come la prima cosa che noi andremo a pensare che si tratti di dei sub dei sommozzatori sott'acqua però come si vede non fuoriescono bolle o perché dal filmato non si riesce a vedere bene comunque rimane un mistero ragazzi il video è terminato ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e alla prossima settimana un saluto da UFO Global Italia spot pomoglio sp p Grazie per la visione!